La seduta del 17 dicembre Perché non parlare d'Europa? Rete dei media universitari Ospitata al nuovo campus universitario Luigi Einaudi di Torino, perché non parlare d'Europa, ha riflettuto sui diversi linguaggi di comunicazione sui temi europei, partendo dai new media, dal web e dalla musica Notizie numero 4 del 2013 È uscito un nuovo numero di notizie, il magazine della regione Piemonte è disponibile anche nella versione sfogliabile online L'edizione natalizia del trimestrale si apre con un ampio servizio sull'Unione Europea, introdotto dall'editoriale del ministro degli esteri Emma Bonino per fare il punto sulle sfide che attendono l'Europarlamento nell'imminenza del suo rinnovo, in programma a maggio Il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba e il componente dell'ufficio di presidenza della consulta Giovani Davide Saitta hanno consegnato al cortometraggio Hop dell'Istituto Pascal di Gioveno il premio consulta regionale dei giovani nell'ambito del Sotto 18 Film Festival La consulta ha inoltre conferito menzioni a pari merito ad altri due film realizzati da studenti Un pacco inaspettato, del liceo artistico Cottini di Torino e Simple Show dell'Istituto Arimondi Eula di Savigliano Lezioni per studenti Proseguono gli incontri con gli studenti per i concorsi scolastici banditi dal Consiglio regionale A Torino, l'Istituto Grassi ha ospitato una conferenza sul progetto di storia contemporanea 2013-14 a cura del Comitato Resistenza e Costituzione Nello stesso giorno, al centro incontri della Regione Piemonte di Corso Stati Uniti è stata tenuta una conferenza a cura della consulta europea